Banzai Cortina, Barboni Sofia, Buzai Giugna, Favolini Paglia, Antonelli Maria Chiara, Miele Valentina, Fittnes Nuova Florida, Lucio Sala, Gisciani Sala, Rosciameo Alessio, Monaco Elegio, Giovanni Eleonora, abitano i signori Vandaloni, Car System, Bagnoli e Del Carlo. Gisela Sofia, Forse! Grazie so. Grazie so. Grazie so. Grazie so. Grazie so. Grazie so. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.